Dov'è? 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 Occhio sopra di te! No! Andata! Porca puttana che fatica! Vabbè mi sono rimasti solo... mica non c'ho più colpe Zero, qua me ne sono rimasti sei Qua me ne sono rimasti sei Cos'è il suo rumore? Giocatore? Giocatore forse sotto, bisogna trovare il calavere e fare... Era sul calavere, ma è iniziato? No! Sopra qua! No! Ok, lo faccio iniziare Occhio pipì Faccio fuori scelte le munizioni Dov'è? Qua fuori qua Qua Occhio pipì sparano! Dov'è? 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 Dov'è che sono le munizioni? È morto, morto, morto È morto, morto No! Mi sparano davanti! Da lì, da lì, da lì, da lì Da dove mi hai segnato per uscire Ok Porca v'ancora Sacchetto giocatore Sacchetto giocatore Dov'è? È sotto, è nato sotto, è caduto sotto Come ho io questa porta? Ah, sì, ok Eh, no Morto, 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 morto Ok, bravo Forse con questo ci sono munizioni Sì, otto perlomeno, va bene Fermati Ma quella cammina? Sì Va bene Vi lasciamo qua, riusciamo Abbiamo ammazzato un botto di giocatori Facciamo un botto di punti Ma va Mi chiede vedere come ho ammazzato quello Quello lì era puntato con la pistola davanti alla porta Sono arrivata davanti Va 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 Ma è morto